Al 23esimo, come si è detto, il gol. Oliveira lavora un bel pallone, cross in aria dove c'è Valdès. I difensori del Torino si preoccupano giustamente di Panagol, allentando però la sorveglianza su Cappioli. Il futuro romanista festeggia quella che dovrebbe essere la sua ultima partita di campionato in corso blu, dando il primo dispiacere a Galli.